Gestione delle malattie croniche, lotta alle disuguaglianze sociali, nuovi modelli di politiche per la salute sono le strade intraprese per una sanità di qualità dalla regione toscana, che negli ultimi anni ha visto crescere le aspettative di vita e migliorare gli esiti di cura nelle proprie strutture sanitarie. Le sfide che il sistema sanitario toscano ha davanti sono tante e su queste si fonde il piano sanitario e sociale integrato approvato dalla giunta regionale per il periodo 2018-2020. Abbiamo scelto quest'anno di fare un piano socio-sanitario molto più snello, rispetto ai precedenti e di concentrarlo su alcune tematiche che secondo noi sono le tematiche che nei prossimi anni dovremo affrontare. A partire dal tema della prevenzione e soprattutto dal tema della cronicità, le malattie croniche sono in aumento anche in correlazione all'aumento dell'età delle persone, quindi c'è un aumento delle malattie croniche e la necessità di rafforzare il territorio perché le malattie croniche trovino una risposta principalmente sul territorio, ma anche ad altri aspetti, per esempio la digitalizzazione del sistema, il rafforzamento della medicina territoriale. Tra le azioni messe in campo dalla regione in ambito sanitario un posto importante lo ricoprono i vaccini, compreso quello contro l'influenza che a seguito dell'ultima campagna ha fatto registrare una richiesta superiore al 2017, tanto che è stato necessario richiedere dosi in più rispetto alle 777.340 acquistate all'inizio. Abbiamo avuto anche un grande miglioramento a seguito della campagna anti-influenzale. Devo dire che è andata meglio del previsto, era la campagna di vaccinazione sulla quale avevamo il dato più basso, poco sopra il 50%. Quest'anno abbiamo ordinato una quantità di vaccini proporzionale rispetto a quelli che avevamo utilizzato nell'anno precedente, ma li abbiamo terminati con grande rapidità. Ora il punto esatto lo faremo a metà febbraio, ma comunque già dal consumo dei vaccini abbiamo visto che c'è stato un incremento sostanziale nel ricorso alla vaccinazione influenzale. E per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, qual è la situazione in Toscana? Sicuramente nell'immediata entrata in vigore della legge sull'obbligatorietà dei vaccini avevamo avuto una crescita importante della richiesta di vaccinazioni. E eravamo arrivati di nuovo a quella soglia del 95% che è considerata dall'OMS la soglia di sicurezza per un paese, la cosiddetta livello di greggie, di vaccinazione di greggie. Devo dire che l'entrata in carica del nuovo governo con una politica altalenante sul tema dei vaccini un po' invece ha fatto registrare qualche flessione su questo tema. Tra le sfide che la Toscana sta vincendo sul proprio territorio c'è la lotta all'epatite C. L'obiettivo è eradicarla. In crescita è il numero di pazienti trattati nelle tre aziende sanitarie Toscana Centro, Toscana Nord-Ovest e Toscana Sud-Est e nelle aziende ospedaliere universitarie di Careggi, Siena e Pisa. Nel 2018 fino a ottobre sono stati 3.781 i pazienti, resta però una fascia di popolazione che ancora non è stata presa in carico. Abbiamo attivato una rete importante soprattutto con la medicina generale perché si possa aggredire questo tema e davvero giungere nei tempi più rapidi possibili all'eradicazione di una malattia che il ricordo portava al trapianto di fegato o addirittura alla morte in alcuni casi. Quindi un grande risultato sul quale la Toscana si è spesa, si è spesa fin dall'inizio per dare un'opportunità di vita straordinaria alle persone. La Regione ha poi investito 23 milioni per chiedere alle aziende sanitarie di presentare progetti per l'abbattimento delle liste d'attesa, uno dei nodi più critici della sanità non solo Toscana. A questo si sono aggiunti canali specifici come gli aiuto point per chi deve fare i follow up oncologici e aggiornamenti nei metodi di prenotazione al CUP. L'obiettivo è quello di far crescere il numero di visite, interventi e sedute con all'orizzonte 15.000 interventi e 300.000 prestazioni ambulatoriali in più. Abbiamo chiesto all'azienda di fare un piano mettendo in campo tutti gli strumenti che avevamo a disposizione di tutti i macchinari per renderli più efficienti e per farli lavorare al massimo. Questo facendo ricorso in prima battuta all'energia interna del sistema. Quindi facendo ricorso all'attività aggiuntiva dei medici dipendenti del sistema sanitario attraverso un accordo che abbiamo fatto con i sindacati medici. Abbiamo stabilito le tariffe alle quali il sistema sanitario può acquistare l'attività libero professionale dei medici cercando di farli lavorare il più possibile anche all'interno del sistema e facendo lavorare i nostri macchinari e le nostre strutture anche il sabato pomeriggio o la domenica se ci fosse la necessità. Quindi abbiamo immesso nel sistema una quantità importante di risorse, di risorse non solo economiche ma umane. e speriamo in questo modo di andare ad abbattere le liste d'attesa per le tematiche più rilevanti. A fine 2018 poi la Regione ha deciso di eliminare il super ticket sulla digitalizzazione di 10 euro a partire da aprile 2019, un contributo inserito in seguito alla finanziaria del 2011 che imponeva alle Regioni un gettito attraverso l'adozione di super ticket. Abbiamo scelto di venire incontro alle persone e di eliminare questo importo che è pagato da tutti indipendentemente della fascia di reddito a cui appartengono. È un contributo che viene pagato anche all'interno del pronto soccorso e quindi questo porterà sicuramente un miglioramento nella possibilità di accesso alle cure delle persone e nelle casse della Regione abbiamo dovuto trovare 18 milioni di euro perché questo è l'importo a cui assommava il contributo di digitalizzazione ma attraverso i risparmi sulla farmaceutica, una migliore organizzazione, siamo riusciti a trovare le risorse per poter dal primo aprile eliminare anche questo balsello che gravava sulle tasche delle persone. Tra le priorità della sanità toscana ci sono poi la disabilità, la non autosufficienza e la vita indipendente a cui la Regione ha destinato oltre 270 milioni di euro. Dall'inizio del 2019 poi sono state riviste e adeguate anche le rette per le strutture per persone con disabilità e quelle delle RSA che non comportano alcun aumento di spesa per gli utenti. Un piano importante che abbiamo fatto come Regione Toscana sul tema della disabilità e dentro ci abbiamo messo le risorse per il Fondo per la non autosufficienza alimentato, voglio ricordare, da risorse proprie del Fondo Sanitario della Regione Toscana perché dal Fondo Nazionale arrivano risorse molto più limitate e non sarebbero sufficienti. Insieme a questo abbiamo confermato uno stanziamento di 9 milioni per la vita indipendente, abbiamo raddoppiato, voglio ricordare, le risorse messe a disposizione per la legge del dopo di noi, abbiamo utilizzato il Fondo Sociale Europeo per l'assistenza domiciliare, quindi un insieme di misure molto rilevanti che hanno comportato un investimento di circa 270 milioni sul tema della disabilità e della non autosufficienza. E poi c'è il sostegno alle famiglie con anziani o agli anziani che vivono da soli con il progetto Pronto Badante, iniziato nel 2015 in via sperimentale a Firenze e provincia e progressivamente esteso a tutta la Toscana. Per stabilizzare il progetto è stato deciso uno stanziamento di quasi 3 milioni tra 2019 e 2020. Ma cosa rende il progetto Pronto Badante così efficace? Ha il valore aggiunto di essere realizzato insieme al mondo della cooperazione e del volontariato e questo è sicuramente un valore aggiunto perché quando da una persona anziana si presenta in mondo del volontariato e della cooperazione anche tutta una serie di opportunità non istituzionali vengono fatte presente alle persone e vengono messe a disposizione delle famiglie. Il volontariato è una grande risorsa della nostra regione e anche in questo progetto Pronto Badante lo dimostra e quindi insieme a tutto il resto noi abbiamo voluto valorizzare anche questo aspetto. E il volontariato si conferma un elemento di grande importanza per la sanità toscana e una delle priorità del 2019. Anche per questo la Toscana si prepara a una conferenza regionale del terzo settore. Il terzo settore si confronterà con le istituzioni sulle varie tematiche aperte lasciate in qualche modo risolte dalla legge di riforma del terzo settore anche per capire come il terzo settore dovrà organizzarsi ma anche come le istituzioni dovranno e potranno rapportarsi ancora di più e meglio con il terzo settore.